Alza il volume On the Beach, come potete ben vedere. Oggi alzeremo questo volume, direi particolare. Un veneziano alla corte Mogul di Marco Moneta. È la vita avventurosa di un ragazzo che a 18 anni parte da Venezia e va nel 1600 alla scoperta dell'India. Per cui è un viaggio nel tempo che ci porta in questa terra meravigliosa che è appunto l'India dell'epoca. Come ricorderete c'erano ben altri viaggiatori che come lui hanno scoperto altri paesi. Parliamo per esempio di Marco Polo e di Matteo Ricci, il prete, che andarono in Cina e ci raccontarono esattamente come era il paese all'epoca. Qui succede la stessa cosa ma con un paese misterioso, magnifico e bellissimo e colorato come l'India. Una bella lettura. Alla prossima.